I reati ambientali sono sempre deprecabili, perché non mettono in pericolo solo l'ambiente a che ci circonda, ma possono provocare anche gravi danni alla salute di tutti gli esseri umani. Grazie al costante lavoro delle forze dell'ordine, molti di questi reati vengono scoperti e i loro responsabili denunciati, proprio come è successo con l'operazione DIP, pianificata dalla Legione Carabinieri Calabria in sinergia con il Comando Regionale Forestale, che ha coinvolto numerosi reparti dell'arma, tra cui le nove compagnie del Comando Provinciale, i Carabinieri del Reparto Forestale, il Nucleo dell'Ispettorato del Lavoro e la Capitana Rediporto di Reggio Calabria. Durante i mesi di luglio e agosto sono stati effettuati controlli mirati su impianti di depurazione, pompe di sollevamento, aree palustre e canali di scolo, nonché sulle attività produttive vicine a zone sensibili dal punto di vista ambientale. Particolare attenzione poi è stata posta sui mezzi delle ditte di Autospurgo, sospettate di pratiche illegali che contribuiscono all'inquinamento. Il bilancio dell'operazione è stato quantomai pesante, 42 le persone che sono state deferite all'autorità giudiziaria per reati ambientali e quasi 83.000 euro le sanzioni amministrative che sono state elevate.